Sindaco Domenico Vespa, buona notizia per il Comune di Villa Celiera e per il comprensorio del Voltigno, arriveranno 20.000 euro per la manutenzione del Gatto delle Nevi, si rinizierà l'attività invernale. Siamo veramente felici, contenti e dobbiamo dare merito e riconoscenza alla nostra regione che ha dimostrato attenzione soprattutto a un problema importante come il turismo, che poi non è un problema ma l'opportunità soprattutto per il nostro comprensorio, quindi non parlo per Villa Celiera ma parlo per Civitella, Carpineto, per tutto il comprensorio del Voltigno. Noi l'anno scorso grazie al nostro impegno ma soprattutto alle risorse del nostro Comune siamo riusciti a far ripartire la stagione sciistica ma siamo riusciti soprattutto ad offrire una vera e propria località turistica grazie alla battitura delle piste, grazie alla strada sempre pulita, quindi quest'anno avevamo bisogno di ulteriori interventi e soprattutto di intervenire in maniera più dettagliata e soprattutto più importante sul Gatto delle Nevi. Grazie al contributo della regione possiamo farlo e soprattutto ci consentirà anche di pulire, di ridare una sistemata ai sentieri, quei sentieri che hanno richiamato veramente tantissime persone negli ultimi anni a Villa Celiera, quindi siamo orgogliosi di questo e dobbiamo veramente dare riconoscenza e ringraziare la regione Abruzzo che è stata attenta al problema.